Esecuzione batte progettazione. Un errore molto comune dovuto dalle principali paure di noi umani è quella che in inglese viene definita paralysis by analysis. È una di quelle situazioni dove si tende a procrastinare l'azione. Si rimane troppo concentrati sulla progettazione, sulla strategia, sul trovare la via perfetta. Ma la perfezione non esiste. Spesso dietro a questo c'è la paura del fallimento. Quindi si ha quella sensazione che manca sempre qualcosa, che senza quella cosa tutto andrà male. Quante idee straordinarie sono rimaste nel cassetto per questo motivo. Mentre tu continui a lavorare, riflettere, rielaborare un progetto per renderlo perfetto, il tuo concorrente più furbo potrebbe batterti sul tempo. Agisci ora, anche se la tua idea, il tuo prodotto o il tuo servizio non è ancora al 100% perfetto. Grazie a tutti.